E' mancata un po' di concretezza ma siamo stati compatti, abbiamo rischiato qualcosa ma nelle ultime partite come abbiamo visto la squadra è diversa, c'è più compattezza in campo e è la strada giusta, da qua alla fine dobbiamo fare punti, punti, punti quindi come abbiamo vinto a Foggia abbiamo pergiato mai in casa, ci aspettavamo di più ma vuol dire che ci andremo a prendere i punti fuori. Questo è la nostra consapevolezza perché noi siamo un'ottima squadra, magari in alcuni tratti di un certo periodo del campionato abbiamo perso un po' gli equilibri e ciò che nelle ultime partite abbiamo ritrovato, è mancata un po' di fiducia ma adesso siamo sulla strada giusta del lavoro e attraverso il lavoro ci saranno i risultati. No, no, assolutamente loro sono una grande squadra costruita all'inizio del campionato per vincere il campionato, però come sappiamo tutti la Serie B è un campionato strano che ogni partita è una storia a sé, noi andremo lì per giocare la nostra partita per cercare come ho detto prima di portare a casa punti, si affronta come si affrontano tutte le partite con la testa giusta, con la cattiveria e la grinta di portare a casa il risultato.